Down in Singapore Aho! Oe Sandro, serata fiacca eh? Eh, ancora è presto. Devono chiudere i cinema, nei ristoranti stanno chiudendo il conto. Un po' di pazienza vedrai che verso le due la serata so giusta. Ma scusa un po' eh, ma tua moglie non ti dice niente che sei sempre da solo in giro la sera? E che adesso le moglie le facciamo pure parlà. Gli infili il vestaglione, gli metti le pantofole, le abbracci forte e poi dici cara, torno tardi sai, motivi di lavoro. Oh, ma chi è quella? Deliziosa. Eh, lo so, è un modello apri e gusta, però è un ofio del Basletti. Capirai, Basletti, pare una mummia surgelata. A quello gli lascio le briciola. Io me butto, gioco centomila, che quota me dai? Guarda, se ce la fai te la pago a dieci. Te sto facendo un furto. Più centomila.